Quanto ci vorrà prima che cada? Sul primo motorino che si legherà con una catena, per un colpo di vento, un anziano che si appoggerà senza pensare all'instabilità di questo oggetto dimenticato troppo a lungo. Sono porci questi romani? Qualcuno lo è, ma altri sono distratti. Nel condominio di fronte ha abitato da giovane e cresciuto il nostro sindaco di Roma Alemanno. Sarà probabilmente sufficiente un colpo di vento, ma presto, molto presto, questo cartellone crollerà.